Dottoressa, l'agricoltura sociale è una disciplina che svolge un ruolo molto importante di inclusione, di miglioramento delle condizioni di vita di categorie socialmente marginate, come per esempio i disabili o come gli anziani. È una categoria che esige il coinvolgimento di diverse figure professionali, diversamente qualificate. Come procede lo sviluppo di tale disciplina? L'agricoltura sociale richiede il coinvolgimento di molti soggetti in un territorio perché è una risposta complessa al problema di persone che hanno uno svantaggio che può derivare dalla disabilità fisica, psichica o da altre problematiche, ma che non è un disagio che si risolve da soli, quindi ha bisogno dell'intervento dell'imprenditore agricolo e di un contesto agricolo, ma anche dei servizi sociosanitari del territorio, quindi il centro di salute mentale, il dipartimento di salute mentale, l'ASL, il comune e via dicendo. Quindi è un'attività che si realizza solo con la collaborazione fra i diversi soggetti, che richiede questo quindi un grande impegno perché ognuno ha poi dei punti di vista differenti, ha una professionalità e delle specificità particolari. Però quando questo avviene, ormai in Italia ci sono diverse realtà di questo tipo, effettivamente si riesce a dare una risposta più incisiva al problema delle persone che poi vivono in un contesto familiare, in un contesto territoriale, quindi in contesti comunque articolati e complicati. E riguardo alla situazione italiana dello sviluppo di questa disciplina, ritiene che sia attualmente sufficientemente sviluppata o che naturalmente ci debbano essere prospettive di miglioramento, di sviluppo? Per ora in Italia si tratta di un'attività che viene svolta a partire dalle esperienze, dalla volontà di singoli o di gruppi sul territorio. Non si riesce a capire neanche quante siano in effetti le realtà sul territorio nazionale, si stimano in circa mille. Non c'è una legge, non c'è una normativa che in qualche modo regolamenta questa attività, ma a livello locale ci sono dei protocolli di intesa fra imprese, ASL, comuni, che riescono a far avanzare queste attività. Sicuramente occorrerebbe in qualche modo dare qualche regola in più, quantomeno per consentire un finanziamento di queste attività che ora si reggono per lo più su piccoli contributi a livello locale o sulla buona volontà degli imprenditori agricoli che mettono a disposizione le loro risorse. Grazie. Grazie. Grazie.